venerdì 24 agosto allo stadio comunale di chiavari un sorriso per l'anfas partita amichevole tra nazionale italiana della solidarietà e campioni del cuore in campo cantanti attori amministratori locali e regionali parlamentari sacerdoti giovani tutti insieme per contribuire a raccogliere fondi per completare la struttura residenziale dei ragazzi dell'anfas scendi in campo anche tu acquista il biglietto alla virtus entella store in corso colombo a chiavari oppure facendo una donazione all'associazione anfas tigulio est onlus attraverso liban un biglietto un sorriso venerdì 24 agosto alle 20 e 30 allo stadio comunale di chiavari non mancare grazie grazie grazie